prosegue l'offensiva russa in ucraina esplosione a kiev raid su alcuni villaggi nell'area centro orientale del paese si combatte nella zona dell'acciaieria di mariupol che resiste ancora su una possibile visita del papa mosca restiamo in attesa di risposta da putin dice in serata il cardinale parolin prorogato fino al 30 giugno all'utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro privati e nei negozi le indicazioni arrivano dall'incontro convocato dal ministero del lavoro con le organizzazioni delle imprese e con i sindacati contagi in calo all'udienza generale papa francesco torna ad invocare da maria la pace e una nuova serenità per l'europa e per il mondo intero con l'invito a pregare ogni giorno il rosario durante il mese di maggio un cordiale saluto dalla tg 2000 buonasera apriamo con la guerra in ucraina giunta al settantesimo giorno le forze russe intensificano l'offensiva e compiono un blitz nell'acciaieria di mariupol gli ultimi aggiornamenti da barbara masuli ancora una volta le autorità ucraine smentiscono i russi mariupol non è sotto il pieno controllo delle forze di mosca dicono l'acciaieria resiste ancora fa sapere il ministro degli esteri kuleva all'interno dell'impianto sono in corso violenti combattimenti secondo quanto riportato dal sindaco di mariupol boicenco che poco prima una tv ucraina aveva comunicato di aver perso i contatti con i combattenti asseragliati nell'impianto contatti che poi sono stati ristabiliti ma la situazione nello stabilimento è sempre più drammatica oltre al battaglione asof e marin della 36esima brigata sotto assedio nell'acciaieria ci sono ancora centinaia di donne anziani e bambini loro sono invece i 127 civili che sono stati evacuati ieri dopo quattro ore di viaggio provati da settimane di assedio sono arrivati a zaporizia in pullman attraverso il corridoio umanitario organizzato da nazioni unite e croce rossa queste immagini invece arrivano da makibka nel donbass dove c'è stato un attacco a un sito di stoccaggio di petrolio che i russi attribuiscono agli ucraini a leopoli intanto è stata ripristinata l'elettricità dopo gli attacchi missilistici di ieri sera che hanno gravemente danneggiato tre centraline elettriche non c'è alcun accordo su un eventuale incontro tra papa francesco e il presidente putin lo ha reso noto il cremlino in risposta alla disponibilità offerta dal puntefice comosca è un momento difficile ma niente gelo ha affermato il segretario di stato vaticano cardinale parolin si sono fatti tutti i passi per non creare ulteriori divisioni sentiamo marco burini bussate e non vi sarà aperto in fondo francesco se lo aspettava che dal cremlino sarebbe arrivato un no alla domanda di essere ricevuto da putin come puntualmente comunicato dal portavoce pesco temo che non possa e voglia fare questo incontro in questo momento ammetteva il papa al corriere della sera aggiungendo io sono pessimista ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi a questo punto non ci sono altri passi da fare il papa si è offerto di andare a mosca e incontrare putin più di così aspettiamo che siano loro a dirci cosa vogliono ha detto poco fa il segretario di stato vaticano parolin rilanciando la disponibilità all'incontro ma chi ha scatenato questa guerra e chi la benedetta non vuol sentire le ragioni degli altri tanto meno di chi si presenta disarmato certo il vescovo di roma non ha risparmiato una buona dose di parresia a chiril siamo pastori dello stesso santo popolo di dio il patriarca non può trasformarsi nel chirichetto di putin punto sul vivo il capo dell'ortodossia russa ha fatto dire che il papa usa toni sbagliati racconta in modo fuorviante la videochiamata del 16 marzo scorso e che l'intervista ostacolerà il dialogo tra le chiese il papa non vuole ulteriori divisioni assicura parolin e comunque il vero scandalo è questa guerra tra popoli fratelli cristiani mentre l'unione europea mette chiril nella lista dei notabili russi da sanzionare lui si straccia le vesti fa la vittima la sua famiglia è stata perseguitata sotto il comunismo ricorda il patriarcato ma secondo alcune indagini ha accumulato un tesoro all'estero per miliardi di euro e per brusselle corresponsabili dell'invasione dell'ucraina sulle sanzioni però fanno muro paesi come l'ungheria di orban vecchio sodale di putin vogliamo che l'ucraina vinca questa guerra rilancia von der leyen ma in questo momento il vero problema è che nessuno quasi lavora per la pace l'uso e il possesso di armi nucleari sono inconcepibili concordano su questo punto papa francesco il premier giapponese kishida colloquio questa mattina in cui si è parlato anche del conflitto in ucraina e all'udienza generale il pontefice ha affidato a maria la pace in europa e nel mondo con l'invito a pregare il rosario il servizio di rita salerno vediamo prima dell'udienza generale in piazza san pietro papa francesco si è intrattenuto per una ventina di minuti con il premier giapponese fumio kishida al centro del colloquio le armi nucleari e il conflitto in ucraina l'uso e il possesso delle armi nucleari è inconcepibile per il pontefice ha fatto sapere la sala stampa vaticana tornando a parlare di uno dei temi quello del disarmo nucleare su cui ha maggiormente insistito negli ultimi anni in concomitanza con il mese dedicato alla madre di dio bergoglio ha poi invitato tutti i fedeli ad invocare la madonna perché interceda per la pace nel mondo prima con i pellegrini di lingua tedesca mi invito a invocare la sua intercessione per le vostre intenzioni personali per l'intenzione della chiesa e per la pace del mondo e poi con quelli di lingua portoghese abbiamo bisogno di imparare ciò con la madre di dio mostriamoci riconoscenti pregando il rosario ogni giorno la fede merita rispetto e onore fino alla fine ha ricordato infine papa francesco scusandosi con i presenti per il male al ginocchio che lo ha costretto a restare seduto le devastazioni di luoghi nel cuore dell'europa le vite spezzate l'attentato arricato alla libertà e all'indipendenza di un paese immaginavamo appartenessero a un passato remoto siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino affermato il presidente della repubblica mattarella intervenendo in portogallo ad un simposio sull'innovazione tecnologica e in un messaggio inviato al capo di stato maggiore dell'esercito mattarella ha messo in rilievo che la politica di difesa incardinata nella nostra costituzione sottolinea la vocazione alla pace dell'italia testimoniata dalla partecipazione agli organismi multilaterali e alle alleanze internazionali ora gli aggiornamenti sul covid torna a scendere la curva dei ricoveri ma fino al 30 giugno rimane l'obbligatorietà delle mascherine nei luoghi di lavoro privati e nei negozi al chiuso come all'aperto ci dice tutto letizia davori anche i dati della pandemia di oggi confermano il calo dei contagi non solo nei numeri 47 mila nuovi positivi contro i 62 mila di 24 ore fa ma soprattutto nei parametri assoluti come il tasso di positività che scende di un punto dal 15,1 al 14 per cento nel giorno in cui l'OMS annuncia il numero minore di morti da marzo 2020 i decessi in italia sono stabili ma sono sempre meno gli ingressi e i posti occupati nelle strutture sanitarie e a due anni dai primi casi di covid sono sempre più gli studi sui danni causati dal virus all'organismo di chi è stato colpito più duramente soprattutto a livello neurologico tra questi molte le ipotesi sull'invecchiamento precoce del cervello nella settimana in cui il paese lascia l'obbligo di mascherina intanto con le eccezioni ormai note il mondo del lavoro e del commercio scelgono la cautela richiedono ai propri dipendenti di continuare ad indossare la mascherina in tutte le situazioni di condivisione al chiuso e all'aperto tranne quando l'attività è svolta in isolamento è stato deciso questa mattina in una riunione tra ministero del lavoro e organizzazioni delle imprese e sindacati che ha trovato tutti d'accordo i protocolli aziendali sull'uso delle mascherine verranno mantenuti fino al 30 giugno una decisione condivisa anche dall'associazione del commercio vale da quindi per i dipendenti di negozi e centri commerciali soprattutto se ha contatto col pubblico ancora morti sui luoghi di lavoro oggi in provincia di lecce un operaio di 53 anni titolare di un impresedile deceduto a causa della caduta da un'impalcatura alta 6 metri mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento in totale oggi si sono registrati tre incidenti mortali sul lavoro gli altri due rispettivamente a vicenza e a roma ed è morto questa notte a roma il giurista e filosofo francesco d'agostino il suo pensiero è stato un riferimento sicuro scrive in una lettera alla vedova il segretario della cei d'agostino fu presidente del comitato nazionale di bioetica fin dalla sua istituzione lo ricordiamo con cesare cavoni una cultura enciclopedica e una sensibilità da uomo d'altri tempi francesco d'agostino non è stato solo un giurista un filosofo un bioeticista di livello internazionale è stato anche un uomo che ha saputo ripensare l'agire cattolico all'interno dei numerosi conflitti etici che il nostro tempo ci ha presentato come scrive il segretario della cei monsignor russo in una lettera indirizzata alla moglie di d'agostino la chiesa che è in italia gli è debitrice del contributo accademico divulgativo ed ecclesiale dato al dibattito sulle frontiere dell'umano alla luce del vangelo e del magistero ci stringiamo alla famiglia nella preghiera con affetto e riconoscenza conclude monsignor russo per il dono di un uomo di tale elevatura umana intellettuale cristiana il cui pensiero è stato un riferimento sicuro autore di testi su cui molti di noi si sono formati con una visione antropologica di profondo rispetto per l'uomo e il creato per la vita tutta che sta in noi e fuori di noi d'agostino è stato presidente del comitato nazionale di bioetica presidente dell'unione giuristi cattolici italiani e membro della pontificia accademia per la vita d'agostino ha creduto nel valore della persona in ogni momento della sua fase di sviluppo condizione di esistenza iscrivendosi con raffinata profondità all'interno del personalismo cattolico secondo cui ogni vita e in ogni momento è degna di essere vissuta nominato dal plenum del csm il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si tratta di giovanni melillo 61 anni di foggia attualmente capo della procura di napoli sentiamo luigi ferraiuolo ha battuto anche le previsioni il nuovo procuratore antimafia e antiterrorismo infatti il primo presidente della corte di cassazione pietro cursio l'ha definita una candidatura di particolare autorevolezza è stato il momento in cui questa mattina palazzo dei marescialli sede del consiglio superiore della magistratura si è capito che giovanni melillo sarebbe stato eletto subito alla guida della dna senza passare attraverso il ballottaggio che tutti pronosticavano con nicola gratteri infatti i vertici della cassazione presidente e procuratore generale che normalmente non partecipano al voto hanno deciso di pronunciarsi scegliendo subito melillo il procuratore di napoli 61 anni foggiano all'anagrafe ma napoletano d'adozione anche professionalmente ha un'esperienza ai vertici della magistratura più unica che rara da pretore a inizio carriera nel napoletano a coordinatore della direzione distrettuale antimafia partenopea a sostituto della direzione nazionale antimafia ma anche magistrato addetto alla segreteria generale del culinale fino a diventare capo dipartimento del ministero della giustizia via renula con andrea orlando da quasi cinque anni dal 2 agosto 2017 era capo della procura napoletana la più grande d'italia che ha completamente riorganizzato in pulle gruppi di specializzazione le sue tagliatelle erano talmente buone da farle meritare una canzone tutta per lei un grande successo nato allo zecchino d'oro come dimenticare le tagliatelle di nonna pina avremo tanta nostalgia di quel motivetto perché la nonna ci ha lasciato proprio in questi giorni a 86 anni a ricordarla è Silvio Vitelli Lui mangiava le tagliatelle, volesse sempre le tagliatelle Lui chi? Suo figlio? Questo ragazzino Ah! Francesco Che è quello che voleva le tagliatelle è il figlio di Gualandi Se poi proprio vuoi vi facciamo la cansoccina Giuseppina Villani, nata e cresciuta a Baricella di Bologna era lei nonna pina divenuta famosissima grazie alla canzone che inneggia alle sue gustose tagliatelle Sono le tagliatelle di nonna pina Un pieno di energia e fatto vitamina Mangiate calde con la cup Anno 2003 la piccola Ottavia portava allo zecchino d'oro questo brano che vinse quell'edizione A comporlo il musicista Gianmarco Gualandi, genero di Giuseppina Uno sprint ulteriore al successo della canzone lo ha dato il programma di Rai 1 La prova del cuoco che l'ha utilizzata per moltissimi anni rendendo Giuseppina la nonna degli italiani Ci ha lasciato proprio in questi giorni Aveva 86 anni Fra poco arriverà la mia ospite speciale Secondo voi di chi sta parlando nonna pina? Una donna che nonostante fosse riservata e lontanissima dal mondo dello spettacolo è riuscita a trasformarsi persino in un cartone animato nella serie di Gino Straffi 44 gatti Semplicità e simpatia Tra pochi minuti torna su TV2000 come ogni mercoledì l'appuntamento con la recita del Santo Rosario Questa sera alle 20.50 andrà in onda dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta a tricarico in provincia di Matera con una speciale intenzione di preghiera per la pace E siamo giunti al termine del TG2000 Grazie per la cortese attenzione A tutti voi auguriamo un sereno proseguimento di serata Grazie per la ricetta Grazie per laертuro Grazie per laманazione Grazie per la istn хватata Grazie per laranda Grazie per la città